Dopo il mio incontro con Gesù, in quell'occasione, ripeto, ho portato con l'immaginazione a vedere quelli che sono anche i ruderi di Arco, perché passando di lì indirettamente li ho visti. Ma giorni fa, parlando con il parroco di Arco, Don Walter, insomma era un po' dubbioso per la verità, perché insomma guarda che chi la va di, insomma sto tamanini che esagera anche un po', siccome l'ho intuito dallo sguardo, ho detto senta modico Eminenza, così lo chiamo, e non li do del lei, li do del tu, perché è stato cortese di darmi del tu. Non so se certi amici suoi sono contenti di che darmi del tu, comunque che darmi del tu. Anche perché questo mi ringiovanisce, uno giovane che mi dice dammi del tu, mi sento subito. Non sono quei quattro cretini che gira, che quando arriva un ragazzo e gli dà del tu si incavolano. Stavo per dire un'altra parola, ma se no il Galas dopo il me riprovera. Si innervosiscono. A me fa piacere, perché penso ai romani che si davano del tu, penso agli inglesi che si danno del tu. E allora non mi spiace la storia del tu, quindi con questo signor paroco mi do del tu. Allora siccome l'ho visto dubbioso, mi gira un pochettino anche la tamanina, mi è venuta la tamanina, e ho detto scusa di cosa non vate, adesso te porto a vedere. No no, vado a un nuovo tempo, domani no, dopo domani neanche. Allora un giorno l'ho beccato che aveva tempo. E con la sua macchina l'ho portato a vedere. E ho incominciato, che mi pare, ho già citato in una trasmissione, qui non credo di sbagliarmi, da la scuola elementare di Varignano, Vigne, Varignano, perché se dice Varignano si incazza, non posso dire quella parola si incazza perché tutte le volte si arrabbia il Galas. Quando dico questa parola dovreste vedere la faccia del Galas, non si può dire questa cosa. L'ho distrutto io. Allora, diciamo che è rimasto un po' stupito. Allora, vediamo la scuola elementare che vista dall'esterno, finestre nuove, imposte nuove, scala esterna secondo la sicurezza, poi l'ho portato a vedere Casa Bresciani. Dice, ma, si dico, Eminenza, questa qui è Casa Bresciani, a posto dove c'è stata il Galas. E dice, è vuota. Sì, è vuota. Allora, l'ho portato al clero. Al clero c'è un signore che fa da custode, che lei è uno scultore, ma gli lo paga anche per fare il custode della faticente cosa. Siamo andati dentro. E, insomma, il fatto che fosse stato dei preti, che lì fosse presidente del Cardinal Sirio, una roba e l'altra, insomma, ha un po' impreziosito l'ambiente, oltre che a essere bello di per sé. E entriamo, facciamo quella salita quasi imperiale con tutti i coi, arriviamo su, si ferma e il me va e dice, non è possibile. Come, dico Don Walter, non è possibile. Non è possibile. Ma dice, ma tutta questa costruzione qui è vuota? Allora, lì ho spiegato che è vuota dal 1968, quando quell'imbecille di farmacista Tamanini e quel Porom, Deglio Proch, sono riusciti, tramite le loro conoscenze politiche, perché loro erano quei repubblicani e contavano qualche cosa, siamo riusciti a persuadere la provincia che non si poteva tenere, questo l'ho già detto, ma ve lo ripeto, tenere un sanatorio, che era il sanatorio dell'Inps, con le finestre che guardavano le case di via Vergolano, via Vergolano, sì, mi si corregge, mi dicono che non era Elio Proch, ma che l'era Mario Proch, già corretto, siete contenti? Oh, se si avesse carico, voi dovreste vedere l'ambiente. Allora, c'è una cinepresa là, là che è il Galas con le cuffie e l'Egel Parisi seduto. Quando mi sbaglio, o mi fa subito segno come per dire che parole incazzate non si può dire, egnaca, porco, eccetera. E quell'altro che mi fa segno, no, no, l'hai già detto, l'ho già detto. Allora, se l'ho già detto, io ve lo ripeto. Lì c'era il clero, l'abbiamo comperato come provincia per portare via la tubercolosi dal centro di Arco, ragazzi, perché oggi voi la vedete così, ma veramente era una cosa, direi, dal punto di vista salutistico anche, assolutamente inaccettabile. Non potevano le case di via Vergolano vedere a 20 metri i tubercolotici che sputavano dalla finestra. Ragazzi, e siamo riusciti. Poi l'operazione, per fortuna, è arrivata la streptomicina, la rifamicina, questi due antibiotici, e la tubercolosi nel giro di un anno hanno chiuso il sanatorio Armandi e dal 1965-68, non mi ricordo, è incominciato Calvario. Allora, mettiamo l'università, mettiamo la cooperazione, Messeghè, che aveva chiesto che il famoso Messeghè delle Erbe, che è insomma tutta un'organizzazione francese, mica da poco, ma sì, ma qua. Poi, era stata fora anche la cooperazione, l'ho già detta, la cooperazione, e poi volevano a un certo momento fare anche delle altre cose, però poi l'ha detto chi la vende, buh, cioè morale della favola che è sempre là. Ma non si poteva mettere anche sgarbi, non si poteva mettere quello che fa i presepi, che si chiamava, com'è che si chiamava? E' questo Gino Simoni, che ha fatto dei bellissimi presepi, che adesso l'ha messo dall'altra parte, perché chi non l'ha mica totti. I quadri di sgarbi, tutta la collezione di sgarbi, si poteva sistemare, io non dico al sanatorio del clero, ma insomma, si poteva fare qualche cosa. Niente, ma l'ho portato a vedere l'asilo nido, che è lì abbandonato vicino alla scuola elementare, l'ho portato a vedere il qui si sana, non voleva, ma dice a chi le doi fare il teatro? Sì, e magari ce l'ho visto diverse volte e dice, ma pensavo che fosse... No, qui che è il teatro sotto, ma l'è bloccato, perché chi? Perché qua? Perché là? E l'ho portato poi a vedere l'ospedale. Dico, parcheggiamo qua, sì sì, parcheggiamo, e a piedi siamo andati dietro e siamo arrivati di fronte a quello che era il reparto psichiatrico al primo piano, poi sopra c'era la medicina e per un periodo di tempo ha funzionato, che era il vecchio ospedale dove gara Mioni con il suo arignazia, perché quello era l'ospedale. Visto di fronte sembrava anche abbastanza, una costruzione abbastanza piccola, ma di fianco siamo andati avanti e non voleva, crede, ma questa è una costruzione importante, non è una costruzione, una villa solo, perché se voi andate in fianco a questa casa, Angerer, perché fu Villa Angerer, no? Villa Garda. Sì, ma Villa Garda, ma l'era proprietà di Angerer, credo. Angerer era Salaclero. Ah, Salaclero, questo. E di chi era quella proprietà lì, di quella casa lì? Chi era? Villa si chiamava Villa? Villa Garda. Villa Garda. Questa Villa Garda è là! E poi c'è tutto il vecchio ospedale. Perché, ho detto a Don Walter, vedi Don Walter, non è che sono andati nell'altro ospedale quando qui crollava tutto, si sono trasferiti con tutto a funzionante, eh? Allora siamo in chiara quella roba lì, i gabinetti erano a posto, la cucina era a posto, il laboratorio l'era a posto, la sala chirurgica era a posto, si sono trasferiti lasciando lì tutto a posto. Non è che hanno lasciato una costruzione che sta per crollare. Allora, dico, ragazzi, anziché trasferire tutti gli uffici del compresorio, metterli sul compresorio a Riva, perché bisognava un po' Riva, un po' Arco, per la questione dell'ospedale di Riva, di Arco, la Segali, che non finiva più, li hanno messi alle palme. Vergogna! Vergogna! E poi siamo passati davanti a Villa Elena, perché l'ha lasciato l'ospedale, siamo tornati su Via Capitelli, abbiamo rivisto il Quisisana, siamo passati davanti a Villa Elena, che lui aveva visto, perché andava dalle suore, credo che andava dalle suore della Sacra Famiglia, o al ricovero, e quella l'aveva già vista, ma non l'aveva inquadrata bene. quando è venuto era già via da Villa Elena, e l'ha messo là. Ma allora, questo signore è rimasto un po' stupito. Padre Monti lo conosceva, i Servi di Maria, lei li conosceva, l'oratorio, naturalmente, lo conosceva. Allora, questo sacerdote è rimasto un po' stupito, dice, ma qua, dice, c'è un patrimonio? qui è veramente, dice, questo qui, che è veramente, non mi ricordo il termine, una cosa, mi ricordo, che però mi ha detto, dice, vada, che mi sono de Moina, ma sta roba Chiamoina, non sarebbe successa. Allora, l'altro giorno, nel dibattito che abbiamo avuto, Galas, con il sindaco, io ho incolpato il sindaco, che non ha, se non vado a rato, non posso dirlo, è rimasto fatto, mi blocco, non ha il temperamento che vorrei io, che normalmente si dice di uno che ha, non dubito che non le abbia, perché Gadoffio ha i cosi, quindi non vi dubbio che le ha posto da quel lato lì, ma, ma, ma io lo vorrei più cattivo, lo vorrei più pungente, perché, qui ad Arco, c'è un petrolio, lo vogliamo, o non lo vogliamo adoperare? Se non lo vogliono operare, non stai a incassarsi, signor sindaco, per piacere, se uno dalla televisione dice, che vuole un sindaco, che abbia certi attributi, e che sia prepotente, che vada a Trento da Rossi, si sieda fuori dalla sua porta, e, se no, se no, vede il sindaco, l'ottobre con cui ho avuto un dibattito, e che a molti non piace, a me non è poi così dispiaciuto, se volete che ve la dica fuori dai denti, perché, vede, signor sindaco, e nel paese di Orbi, sta ben qui gano il suo sol, e basta.